A partire dal prossimo settembre i bambini toscani potranno essere vaccinati gratuitamente anche contro il meningococco di tipo B. Si tratta di un batterio che provoca una forma di meningite particolarmente aggressiva, letale nel 10-15% dei casi, ma che ha altissime probabilità di provocare disabilità fisiche e mentali gravissime e che colpisce in particolare i più giovani. Dei 9 casi di meningite di tipo B accertati dall'inizio del 2014 in Toscana, infatti ben 8, sono riconducibili a pazienti sotto i 14 anni. Per questo il governatore della regione Enrico Rossi, al termine di un sopralluogo nella sede della Novartis a Siena, ha deciso di dare mandato alla Direzione Generale della Sanità Toscana di inserire nel panel di vaccini gratuiti anche quelli contro il meningococco di tipo B. Un vaccino sviluppato dalla multinazionale del farmaco dopo 10 anni di ricerche e oltre un miliardo di euro di investimenti. Al momento il vaccino è disponibile in farmacia a pagamento, 136 euro a dose, per un farmaco che per essere efficace al 100% deve essere somministrato in quattro fasi entro l'anno di vita. Il protocollo prevede infatti una vaccinazione ai due mesi, ai quattro, ai sette e il richiamo al tredicesimo mese. Per distribuirlo gratuitamente, seguendo l'esempio della Basilicata e della Puglia, la Toscana dovrà investire circa 6 milioni di euro l'anno, ma, ha sottolineato il presidente Rossi, si tratterebbe di soldi spesi bene. Anche perché, quando nel 2005 la regione decise di promuovere un'imponente campagna contro la meningite di tipo C, i risultati furono eccellenti, tanto da debellare la malattia nel giro di meno di 10 anni.